Giulia Stabile e quel gesto contro San Giovanni, poi cancella tutto Si scatena una polemica contro il cantante, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, e una mossa della ballerina non passa inosservata Giulia Stabile e San Giovanni non formano più da tempo una coppia Una rivelazione fatta dall'ex allievo della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha generato una polemica sui social network Pare che si sia unita agli attacchi anche Giulia. La quale però avrebbe poi cancellato il gesto Facendo il punto della situazione. Tra il cantante e la ballerina professionista la relazione è durata circa due anni La loro love story, ha appassionato moltissimi telespettatori legati al talent show di Canale 5 Entrambi sono volti molto amati del programma, e vederli formare una coppia ha aumentato l'entusiasmo Ma ecco che, dopo varie indiscrezioni, è stato confermato che San Giovanni e Giulia si sono lasciati Per i fan è stato facile pensare che chi ha sofferto di più per questa rottura è la stabile Infatti, in questi mesi si è spesso parlato del periodo complicato che la giovane ballerina sta attraversando Ormai è trascorso molto tempo dalla fine della loro relazione e i fan se ne stanno facendo una ragione Ma ecco che si è accesa una polemica contro San Giovanni Quando è uscita una sua intervista per MTV Italia Qui gli è stato chiesto di raccontare qual è stata la pazzia più grande che ha fatto per amore Ho preso un aereo per andare dall'altra parte del mondo È una pazzia Tanti cash per niente La sua dichiarazione ha generato la rabbia nei fan di Giulia su X, Twitter Qui i telespettatori si stanno scatenando contro il cantante di Malibu In quanto la pazzia di cui ha parlato di sicuro non l'avrà fatta per la stabile In particolare, si pensa che lo stesso San Giovanni abbia cercato di far subito capire che la pazzia in questione non l'avrebbe fatta per la ballerina Praticamente ha fatto capire di essere andato dall'altra parte del mondo per una Facendo capire che non era Giulia Per lei veniva a Roma solo quando c'erano le partite di calcio o i concerti Ha scritto qualcuno Ancora fermi alla loro love story Questi fan non si fermano Qualcuno ha scritto Può essere una casterisco asterisco ata Ma il messaggio che vuole fare arrivare è che non l'ha certo fatta per Giulia Ed è proprio con questo commento che Giulia avrebbe avuto una reazione pubblica Infatti, pare sia subito spuntato il lichè della dolce e simpatica ballerina professionista di Amici A confermarlo sono alcuni dei suoi fan e uno screenshot condiviso da il vicolo delle news in queste ore Ma proprio in questi minuti è possibile notare che quelli che non c'è più Probabilmente, per evitare di alimentare ulteriormente le polemiche contro San Giovanni La stabile avrà deciso di eliminare questo suo gesto Ormai, però, i suoi fan più attenti avevano già preso visione della sua reazione Lei ha messo un lichè per far capire che è rimasta male Si legge tra i commenti Grazie